Un solo positivo, una classe in sorveglianza, due pazienti in attesa di collocazione al pretriage, un paziente covid in sosta nel gazebo e questo è il bilancio del coronavirus per la giornata di oggi, 18 gennaio. Frena il contagio per il secondo giorno di fila con i numeri che fortunatamente continuano a scendere. Il particolare curioso riguarda però un uomo di Pettorano Sulgizio che si è presentato questa mattina a pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona con un dolore toracico. Per questo è stato sottoposto a tutti gli esami del caso e anche al tampone per l'accertamento del contagio visto che presentava da qualche giorno sintomi riconducibili al covid. L'uomo atteso l'esito del test nel gazebo collocato all'esterno del pronto soccorso di via Montesanto ovvero l'area individuata per i congiunti dei pazienti presi in carico nel reparto. Ebbene il tampone ha dato esito positivo. Un caso che conferma la necessità di avere altri spasi a disposizione perché l'area grigia esiste sì sulla carta, come ricorda in perterrito qualcuno, ma non nella sostanza. Peraltro la distanza del triaggio a pronto soccorso e la perentorietà di alcuni accertamenti allungano i tempi con il rischio di non arginare la diffusione del contagio nell'ambiente ospedaliero. L'uomo sarà sottoposto al tampone molecolare e la sua positività comparirà nei bollettini dei prossimi giorni. L'unico caso tracciato oggi dalla ASL dopo i nove di ieri riguarda un minore di dieci anni domiciliato a Sulmona che si trova in isolamento domiciliare. E starà quindi attivata la sorveglianza per una classe quinta della scuola primaria Masciangeli. È il primo provvedimento che riguarda le scuole dopo rientro sui banchi, anche se il contagio del minore, stando ai primi accertamenti, non sembrerebbe legato all'ambiente scolastico. Due pazienti hanno chiesto la diagnosi dei sanitari, sono stati presi in carico nel vecchio pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona in attesa di collocazione. E notizia di oggi anche della sanificazione scattata nell'ufficio tributi del comune di Sulmona di Via del Cavallaro dopo il rischio contagio per un dipendente della cooperativa. L'ufficio è quindi rimasto chiuso al pubblico per la giornata odierna. Nel centro vendita, dopo i tamponi svolti a personale, sembra stabilizzarsi il quadro epidemiologico e i quattro contagi accertati nei giorni scorsi, anche se il fronte resta monitorato. La mappa del contagio continua a presentare un quadro più rassicurante per l'area Peligno-Sangrina. Gli attuali positivi sono scesi a 530, di cui 198 domiciliati a Sulmona, 53 Prato-La Peligna, 27 Pacentro, 23 Casteldi Sangro, 20 Introdacqua, solo per citare alcuni centri, mentre i contagi risultano quasi azzerati a Raiano, che conta solo due positivi. Buone notizie su fronte dei vaccini anti-covid per i sanitari, che a partire dalla giornata di sabato 23 gennaio riceveranno la seconda dose per l'immunizzazione. Ciò vuol dire che l'Abruzzo non si ritrova sprovvisto, mentre sono da smorzare gli entusiasmi per gli ospili delle case di riposo, che dovranno attendere ancora qualche giorno. La campagna vaccinale non è partita oggi, come era previsto, perché si attende la fornitura delle dosi, ma è questione di giorni. Le addette ai lavori fanno sapere che si riuscirà a inoculare la prima dose agli ospili delle strutture entro fine mese. Intanto, nelle more della campagna vaccinale che continua, si raccomanda sempre prudenza e rispetto delle misure anticontaggio. Sempre oggi sono stati svolti tamponi rapidi antigenici nell'ex caserma Battisti Dallana, tutti negativi.